1970 in italia si può divorziare è esecutiva la legge fortuna baslini 1972 muore antonio segni 1990 operai francesi e britannici si incontrano sotto la manica commenta il fatto del giorno andrea amonda direttore dell'osservatore romano l'incontro in vaticano tra il papa polacco giovanni paolo secondo e l'idea sovietico michael gorbachev un fatto che fino a poco tempo prima era semplicemente impensabile primo dicembre 1925 è pronunciata la sentenza istruttoria nel processo per la assassinio del deputato socialista giacomo matteotti gli esecutori materiali sono rinviati a giudizio per omicidio non premeditato mentre il sequestro di persona è estinto dall'amnistia primo dicembre 1955 a montgomery in alabama l'afroamericana rosa parks si rifiuta di cedere il posto sull'autobus a un uomo bianco rosa è arrestata il posto sull'autobus a un uomo bianco rosa è arrestata potenza